Musica Martedì 10 giugno, Santa Diana e il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 204 al termine. Il sole sorge alle 5.22 e tramonta alle 20.58, la luna si leva alle 17.59 e tramonta alle 3.20. Si incominciano a demolire alcune case all'inizio delle mercerie in piazza San Marco. Al loro posto verranno gettate le fondamenta della torre di un orologio che dicono sarà una cosa unica al mondo. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio su rilievi e zone limitrofe localmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti. Precipitazioni in pianura assenti. In montagna probabilità bassa. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche breve piovasco, rovescio o temporale. Temperature rispetto a martedì in pianura in leggero aumento. In montagna senza variazioni di rilievo, molto sopra la media, specie nelle ore diurne. Grazie.